Musica Doveva tenersi lo scorso mese di marzo la premiazione del concorso fotografico nazionale del Carnevale e invece a causa della pandemia l'evento era stato rimandato a data da destinarsi. Mercoledì sera alle ore 21 alla Corte dell'Espolo di Palazzo Bracci Pagani verrà recuperata l'iniziativa organizzata da Centrale Fotografia e dall'ente carnevalesca con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Fano, del Mibact e della Regione Marche. Siamo riusciti a fare una cosa che probabilmente sarà molto utile per la città. Questa premiazione verrà svolta durante la giornata internazionale della fotografia. È un evento che si svolge in tutto il mondo dove molti fotografi appassionati condividono le fotografie in un sito e c'è anche questo evento della premiazione che avverrà con Ivo Saglietti che è un fotoreporter tra i pochi in Italia aver vinto il World Press Photo per tre edizioni quindi è un grande personaggio, 40 anni di carriera, ci mostrerà le foto migliori e poi premierà e troveremo i vincitori tra oltre 100 fotografi che hanno partecipato da tutta Italia. Domani pomeriggio la giuria si riunirà per visionare le oltre 400 foto e decretare i vincitori che verranno svelati la sera stessa tra i premi una stampa vintage del fotografo Ferruccio Ferroni una macchina per fotografia istantanea e una borsa artigianale da lavoro per l'occasione verrà presentato il logo ufficiale della giornata internazionale della fotografia ideato da Elisabetta Duchi, direttore creativo dell'agenzia Omnia Comunicazione l'ingresso sarà libero e gratuito ma solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili manteneremo le distanze, bisognerà usare la mascherina all'ingresso e c'è il personale di Palazzo Bracci Pagani che rileverà la temperatura e quindi passeremo una serata tranquilla con la fotografia l'evento chiuderà la serie di iniziative del Carnevale di Fanno 2020 intanto l'ente carnevalesca è già al lavoro per la prossima edizione dal 4 al 6 settembre la presidente Maria Flora Gian Marioli sarà a Putignano per un confronto con i colleghi dei Carnevali d'Italia chiudiamo questa edizione così particolare con una certa emozione proprio per tutto quello che ci è successo lo chiudiamo in grande stile con una giuria d'eccezione con un fotografo, un presidente di giuria di eccezione come Ivo Salvietti e quindi il 19 vi aspettiamo il 19 sera a Palazzo Bracci Pagani proprio per questa manifestazione stiamo già ovviamente pensando al Carnevale 2021 che sarà altrettanto probabilmente particolare però insomma ce l'abbiamo già in testa sapete che sarà dedicato a Dante Alighieri proprio nei 700 anni della morte quindi il programma diciamo che già c'è dovremo capire dove, quando e come poterlo realizzare